ciao a tutti oggi prepareremo il ragù di carne il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono salsa di pomodoro acqua foglia d'alloro concentrato di pomodoro vino sale tritato pepe pancetta sedano carote olio burro e scalogno diamo il via alla ricetta mettiamo all'interno del boccale la pancetta e la tritiamo per 10 secondi a velocità 8 finiamo un po sul fondo del boccale aggiungiamo la carota il sedano lo scalogno il burro e l'olio e tritiamo per 5 secondi a velocità 7 arriviamo sul fondo adesso facciamo insaporire per 10 minuti 120 gradi velocità 1 senza il misurino adesso aggiungere la carne e insaporire sempre senza il misurino 5 minuti 120 gradi anti orario velocità soft adesso riuniamo un po sul fondo del boccale attualmente la consistenza è questa adesso andremo ad aggiungere il vino e lo faremo sfumare sempre senza il misurino per 5 minuti temperatura paroma anti orario velocità soft adesso adesso aggiungere la passata di pomodoro l'acqua la fogliolina di alloro il sale il pepe e il concentrato di pomodoro andiamo a mescolare un attimo con la spatola e facciamo cuocere per 35 minuti 100 gradi anti orario velocità soft andiamo a chiudere col misurino il nostro ragù è pronto andiamolo a trasferire in un contenitore eventualmente verificate di sale e aggiustate ragù di carne si conserva in frigo per 3-4 giorni grazie e alla prossima ricetta